Alcune zone della regione subiranno ancora delle piogge incredibilmente forti che provocheranno altri alluvioni e ulteriori pericoli per i texani. Il governatore del Texas, Greg Abbott, avvisa che dopo almeno cinque vittime in terre zone della regione sotto l'acqua, il pericolo non è passato. La tempesta tropicale Harvey, che ha colpito violentemente lo Stato americano, si sposterà sul golfo, ma tornerà nei prossimi giorni nella zona di Houston e porterà con sé nuove piogge. La città, la quarta per dimensioni degli Stati Uniti, è stata sommersa dall'acqua in molti punti. Gli aeroporti sono chiusi, gli ospedali evacuati. È folle, non avevo mai visto niente di simile. Ci sono due auto sommerse laggiù, non so neanche se ci sono persone intrappolate, è tutto folle, racconta questa ragazza. Molti hanno lasciato le proprie abitazioni, alcune famiglie sono salite sui tetti per essere salvate dagli elicotteri, esclusa un'evacuazione di massa troppo complicata in una città che conta 2 milioni e 300 mila abitanti. Il presidente Donald Trump è atteso in Texas nelle prossime 24 ore.